amici di moto.it ciao a tutti ciao ciao siamo qui nel cuore della nostra sede operativa in compagnia di una delle nostre moto con cui abbiamo corso il mondiale motard dal 2006 fino al 2011 per raccontarvi come si trasforma una moto da cross in una moto da motard ovviamente bisogna andare a cambiare i cerchi le gomme le sospensioni l'impianto frenante tantissime cose ma non ci interessa elencarvi cosa cambiare ma spiegarvi proprio tecnicamente il perché si vanno a fare queste modifiche e per farlo ovviamente lo farà mio papà eccoci qua allora a parte le cose ovvie no nel senso che i cerchioni devono essere da 17 barra 16 e mezzo davanti le sospensioni vanno rese più dure vanno accorciate soprattutto l'anteriore il forcellone va accorciato l'impianto frenante deve essere più potente ma vorrei spiegarvi il perché di tutte queste modifiche allora devo fare una premessa un po tecnica magari un po pallosetta ma è il preambolo per capire meglio poi tutte le altre cose perché vengono cambiate barra modificate e l'avancorsa cos'è l'avancorsa abbiamo preparato qui delle slide per cercare di farvi capire al meglio di cosa parliamo allora l'avancorsa è questa misura qua no qui vediamo 123 mm qui abbiamo diciamo siamo partiti dalla foto di una moto da cross per partire dalla dall'origine della moto motard quindi circa 123 di valore di avancorsa da cosa è scaturisce questo numero dalla verticale al suolo dal perno ruota che è questa e dalla linea che passa attraverso il canotto di sterzo arriva fino a terra questa misura qua della proiezione a terra di queste due linee ci dà il valore dell'avancorsa ok noi abbiamo diciamo varie vari modi per cambiare questo valore allora questa è la stessa foto di prima identico ritroviamo il 123 abbiamo soltanto preso un'altra misura più in alto cioè simulando che il cerchio sia più piccolo sia un cerchio da 16 e mezzo 17 quindi facciamo finta che la gomma arrivi qua a questo punto qua tocca al terreno quindi noi avremo questa nuova misurazione da qua qua che è sempre il valore dell'avancorsa e senza toccare nulla del telaio siamo passati da 123 mm a 72 quindi già mettendo la ruota anteriore più piccola noi andiamo a diminuire il valore dell'avancorsa questa è sempre la foto della nostra moto che però abbiamo ruotato no abbiamo ruotato rispetto al terreno e abbiamo ottenuto un valore di avancorsa che è arrivato a 59 solamente ruotando il telaio pur mantenendo la ruota sempre da 21 quindi questo per per dirvi che noi se ruotiamo il telaio verso avanti avremo un valore di avancorsa inferiore abbiamo capito a questo punto che cos'è l'avancorsa cosa succede se noi abbiamo un valore più alto più basso allora l'avancorsa ridotta rispetto allo standard diciamo che può essere la partenza di una moto ci da una moto che è più maneggevole cioè con un minimo spostamento di peso nostro o di pressione sul manubrio dovremo una moto che svolta molto facilmente che in staccata quando andiamo a cercare la corda ci arriva molto rapidamente molto facilmente però se esageriamo succede che anziché trovarsi come deve essere naturalmente in percorrenza di curva in staccata con una leggera pressione no dello sterzo verso il contro sterzo ci troviamo che lo stesso punto tende a girarsi da solo e questo non va bene come non va bene se l'avancorsa ha un valore troppo alto perché ci rende la moto molto stabile sul dritto ma quando noi entriamo in curva soprattutto dopo che avrei lasciato i freni e facciamo la percorrenza avremo una moto che tende allargare la curva cioè non vuole fare la curva noi vorremmo curvare lì ma lei allarga no e succede a quel punto che noi per cercare di salire tutta la curva forziamo sul manubrio a chiudere verso l'interno mettiamo in crisi la gomma che fatalmente perde l'aderenza e ci sdraiamo diciamo che abbiamo capito a questo punto che l'avancorsa è un valore molto importante sia per quanto riguarda la stabilità sul dritto sia anche per quanto riguarda frenata inserimento e percorrenza di curva adesso che abbiamo spero chiarito esattamente che cos'è l'avancorsa direi che potremmo passare per gradi e iniziare a dire le tutte le varie modifiche partendo dalla più dalla migliore per il costo beneficio che ovviamente sono i cerchi perché con le gomme tassellate difficile andare in pista sì come accennato prima già dalla slide il vantaggio grosso oltre ovviamente avere un grip consono all'utilizzo sull'asfalto che non è dato ovviamente dal tassellato è dato anche dalla diminuzione dell'avancorsa che abbiamo visto prima passando dal cerchio da 21 al cerchio da 16 e mezzo barra 17 quindi questo ci porta già una moto con un valore di avancorsa più ridotto più o più adatto alla velocità ecco non detto prima che le moto da velocità ad un avancorsa molto più ridotta rispetto alla moto da fuoristrada e questo è già una prima spiegazione anche del perché si usano le ruote lisce altra cosa importante di solito si va accorciare la escursione della della forcella anteriore questo sempre per lo stesso motivo perché noi otteniamo nel pratico una ruotando il telaio quel punto perché accorciamo la corsa della forcella otteniamo un'ulteriore riduzione per quanto riguarda il valore dell'avancorsa un'altra cosa che viene utilizzata normalmente quando si fanno le trasformazioni da supermoto da motard e cambiare le piastre con delle piastre intanto con una larghezza tra i due steli maggiore per ospitare meglio la gomma e questa è una cosa diciamo fisica essenziale per non strisciare con i fianchi della gomma contro la forcella ma soprattutto si usa spesso una set di piastre con la possibilità di variare l'inclinazione rispetto al canotto di sterzo soffermiamoci ancora un attimo sulle ruote perché qui troviamo due bellissimi cerchi alpina come mai abbiamo scelto questi qua ok allora quando appunto correvamo noi i cerchi alpina erano indiscutibilmente i cerchioni più leggeri in assoluto sono un composito di carbonio e alluminio quindi molto molto leggeri l'avere meno peso sul cerchione che cosa comporta che vantaggio da dal vantaggio di avere meno effetto giroscopico cos'è l'effetto giroscopico non so se l'avete fatto da bambini magari giochino di tenere in mano la ruota della bicicletta smontata dalla moto farla girare e tenerla per l'asse e poi cercare di ruotare diventa molto molto dura se la ruota gira gira veloce quindi più velocità a cerchione nella sua rotazione e più peso a più aumenta l'effetto giroscopico e quindi la moto risulta più difficile da fare far cambiare a livello di direzione no e quindi più è leggero il cerchione e meglio è oltre al fatto di guadagnare sia in accelerazione perché comunque noi per accelerare la rotazione delle ruote e per decelerare anche in frenata abbiamo bisogno comunque della potenza sia in accelerazione che in frenata e quindi questo aumenta anche la prestazione della moto si accelera più rapidamente e si può frenare due metri dopo parlando di frenata è la componente forse non dico più importante ma che ci fa viaggiare più in sicurezza esistono tantissimi tipi di freno monodisco bidisco noi sulla nostra moto abbiamo scelto di utilizzare un magura bidisco come mai il bidisco dunque il bidisco ha un vantaggio principalmente quello di non indurre torsioni quando si è in frenata risulta evidente che se noi abbiamo solamente un disco attaccato a un gambale in frenata si andrà a creare una torsione in frenata che poi dopo il pilota in automatico corregge no però cosa succede che comunque quello che non può correggere il fatto che se tu sei già in piega non puoi frenare alla stessa maniera con un monodisco rispetto a un bidisco il bidisco è indubbiamente migliore da quel punto di vista ha se vogliamo un po' lo svantaggio che è tutto doppio quindi due pinze due rischi due tubi quindi se vogliamo più rischio in caso di cadura di caduta di fare dei danni e comunque anche più costo perché è tutto doppio praticamente altra cosa fondamentale dell'impianto frenante il rapporto idraulico tra il pistoncino della pompa e i pistoncini all'interno della della pinza o delle pinze mi cerco di spiegare su tanti impianti frenanti si trova una leva che uno come va in appoggio rimane lì anche tirando fortissimo non si muove questa leva vedete che io soltanto col pollice abbastanza agevolmente riesco a spingerla a comprimerla questo cosa vuol dire che ha un rapporto di leva idraulico abbastanza elevato questo mi dà due vantaggi uno che ho più potenza frenante e due che potendo gestire la frenata in quest'arco qua diciamo piuttosto che in mezzo millimetro ho molta più facilità a gestire veramente quello che voglio nella frenata cioè devo sentire in poche parole sotto la leva le pastiglie che premono sul disco questo è importantissimo per avere un veramente un ottimo feeling durante la frenata direi che è tutto chiarissimo adesso possiamo andare a vedere le nostre piastre smontate come erano fatte ok sì un'altra componente importante che viene spesso montata sono le piastre con la possibilità di inclinare quella quella sopra rispetto a quella sotto qua vediamo che il nostro canotto può ruotare c'è una c'è una sfera alla base della piastra e quindi noi possiamo decidere di chiudere o aprire di più l'inclinazione delle forcelle attenzione stiamo parlando inclinazione forcelle non non del telaio adesso poi arriverò a spiegarvi meglio il perché di questa precisazione qui abbiamo la piastra sopra che fa vedere un tassello di alluminio che determina un spostamento rispetto al centro questo che la boccola zero vedete la differenza si vede a l'occhio insomma ecco questo cosa consente consente di avere il posizionamento il posizionamento della della piastra anziché in centro spostata in avanti ok quindi spostando in avanti la piastra anteriore in automatico noi ci troveremo con l'inclinazione delle forcelle che andrà verso dietro adesso spostiamoci ancora un attimo sulla nostra slide che cerco di spiegarvi che cosa succede a livello tecnico noi praticamente cosa abbiamo fatto adesso abbiamo inclinato di più la forcella rispetto al nostro canotto di sterzo che sempre la linea rossa di conseguenza noi avremo il perno della ruota che verrà più verso il dietro della moto quindi la nostra proiezione dell'avancorsa andrà a finire qua e quindi andiamo a aumentare l'avancorsa attenzione perché quasi tutti sono convinti che mettendo delle piastre con l'inclinazione chiusa si vada a diminuire l'avancorsa no succede esattamente il contrario aumenta l'avancorsa però in effetti la moto diventa più maneggevole perché diventa più maneggevole perché noi abbiamo accorciato ridotto l'interasse della moto cioè praticamente la distanza tra perno della ruota anteriore e perno della ruota posteriore questa questa diciamo riduzione di interasse porta anche un altro vantaggio partendo dalla moto da cross che andiamo a spostare il baricentro più in avanti cosa succede che spostando il perno adesso faccio un esempio così tanto per qua il nostro perno della ruota qua si sposta indietro tutto il corpo ruota ma il peso della moto si sposta verso avanti quindi noi avremo un punto di baricentro che ipoteticamente era qua prima ce lo ritroveremo qua quindi abbiamo più peso sull'avantreno che è un dato importante per dare grip alla gomma davanti nella moto da fuori strada la ripartizione dei pesi è più o meno al 50 per cento nella moto da motard o da pista si sposta decisamente nell'avere più peso sull'anteriore per dare spinta alla gomma verso l'asfalto un'altra cosa importante è capire perché si accorcia il forcellone posteriore per esempio noi qua abbiamo il forcellone che partendo da quella originale abbiamo modificato accorciando il braccio posteriore in maniera da avere il perno che era qua e adesso ce l'abbiamo qui questo perché viene fatto viene fatto perché abbiamo l'esigenza di dare più carico alla ruota posteriore quando si è in accelerazione ok quindi si cerca sempre partendo dalla motora cross di tenere il perno della ruota sempre più in avanti questo comporta ovviamente riguardo al nostro baricentro di riportarlo un po più indietro facciamo un passo indietro da quel punto di vista però così è oltre ad accorciare il forcellone è importantissimo anche avere una taratura delle sospensioni adeguata all'uso pista sì assolutamente noi utilizzavamo il mono standard uno show di serie però profondamente rivisto nella taratura interna che va molto più sostenuta e con una molla di carico maggiore cosa molto importante noi abbiamo anche lavorato sui leveraggi abbiamo completamente ristudiato e rivisto il link cosa che poi è stata copiata tra virgolette da tutti gli altri partecipanti al mondiale che partivano dalla motora cross per cambiare la progressione nella motora cross il retrotreno ha una progressione molto molto accentuata che mal si sposa con l'utilizzo in pista questo perché perché mentre in fuoristrada tu hai bisogno che durante l'escursione diventi sempre più rigida invece in pista dà fastidio perché sennò hai il primo pezzo che cede troppo facilmente con il risultato che quando tu sei in percorrenza curva chiudendosi troppo il dietro si apre il davanti aumenta il nostro valore di vancorsa e di conseguenza non riesci a tenere la corda della curva invece con un ammortizzatore dietro bello sostenuto con un link che parte già da duro tu anche quando molleggia hai sempre un sostegno importante se tu invece tiene il leveraggio del cross e carichi semplicemente tanto di idraulica e tanto di molla non riesci comunque a sostenerlo e in più quando quando lavora che dovrebbe assorbire è talmente duro che non ce la fa lavorare e quindi fa lavorare la gomma posteriore e questo è un grosso problema perché anche la gomma fa parte del reparto sospensioni se vogliamo nel senso che ha un movimento elastico ma è incontrollato incontrollabile cioè si comprime e poi rende no senza controllo e quindi ti ritrovi con la moto che pompa per esempio oppure peggio ancora che ti lancia ti lancia ti fa fare il famoso high side no perché si comprime l'ammortizzatore si blocca la gomma si schiaccia quando ti rende tu vieni capottato via quindi l'high side non va bene andiamo a vedere nel dettaglio il nostro link come fatto e l'evoluzione allora questo è il link posteriore qua abbiamo l'attacco sul telaio della moto qui abbiamo l'attacco al forcellone no e qui abbiamo l'attacco dell'ammortizzatore quindi quando la sospensione viene compressa il link fa questo lavoro no noi abbiamo messo a punto un link con delle quote delle geometrie anche tali per cui la progressione veramente molto molto contenuta l'ulteriore passo è stato poi fare questo triangolo qua al posto di questo che ha esattamente le stesse misure geometriche diciamo no però come vedete abbiamo ribaltato l'attacco dell'ammortizzatore rispetto a quello standard quello standard a forchetta viene ospitato da questa da questa boccola qua mentre invece qua noi abbiamo una forchetta nel triangolo e l'ammortizzatore che vediamo qua ha l'occhiello perché abbiamo fatto questo abbiamo fatto questo perché così abbiamo potuto fare una modifica sul piedino dell'ammortizzatore tale per cui possiamo spostare l'attacco inferiore dell'ammortizzatore in altezza questo ci consente di alzare e abbassare l'altezza della moto nel posteriore questa è una delle regolazioni che noi abbiamo usato maggiormente tra una pista e l'altra c'è trovato più o meno il setting ideale a livello poi di taratura sospensioni click taratura interna eccetera il valore che andavamo a spostare continuamente durante il gp di gara era l'altezza del posteriore questo perché se noi alziamo un po rispetto alla soluzione standard diciamo abbiamo la moto che scivola un po di più però non innesca ondeggiamenti non desiderati mentre invece se noi andiamo a abbassare il retrotreno avremo più grip ma con la moto un po più nervosa quindi bisognava poi sempre trovare il compromesso giusto tra slide e grip e questo lo facevamo praticamente solo con l'altezza del posteriore quindi una cosa molto molto importante molto molto importante ma anche veramente complesso da mettere a posto perché bisogna già essere perfettamente a posto a livello di settaggio sospensioni e anche trovare l'altezza corretta immagino fosse veramente difficile assolutamente oltre al mono ovviamente si faceva anche una forcella molto più sostenuta rispetto a quello originale e si andava anche ad accorciarla giusto assolutamente sì allora il fatto di accorciare la forcella è molto importante come abbiamo detto prima per ridurre un po il valore dell'avancorsa e poi è molto importante averla sostenuta a livello di molla soprattutto la bolla andava indurita molto molto parecchio per evitare che in frenata la moto si chiudesse troppo con l'effetto indesiderato di andare a trovarsi con un valore di avancorsa talmente ridotto da rendere totalmente instabile la moto quindi anche questo è un dato molto importante da tenere presente va accorciata e va indurita molto un altro fattore molto importante che distingue dalla moto da fuoristrada sono ovviamente i rapporti che sono più lunghi perché le velocità massime richieste sono molto più alte e anche il tiro catena spiegaci un po cosa cambia cambiando il tiro catena sì assolutamente allora un altro motivo per il quale una cosa che non ha detto prima è che noi per esempio nell'ammortizzatore standard andavamo più alti dell'originale addirittura questo per avere il minor tiro catena possibile adesso cerco di spiegarvi cosa sia il tiro catena allora consideriamo questi tre punti la linea che congiunge il perno del calettamento del pignone con la ruota posteriore ok poi l'altezza dove posizionato il perno del forcellone determina quale sia il tiro catena che dato proprio dalla linea della catena stessa quando in trazione cosa succede che più il forcellone è verso il basso e quindi abbiamo l'ammortizzatore lungo no più il tiro catena scenderà scenderà verso verso il perno e quindi noi avremo meno tiro catena viceversa col forcellone più in alto quindi con l'ammortizzatore più corto noi avremo maggiore tiro catena gli effetti pratici del tiro catena quali sono se ho tanto tiro catena succede che quando io accelero il forcellone tenderà a chiudersi tendendo a chiudersi il retrotreno mi si abbassa io do carico sulla sospensione però purtroppo quando poi io perdo aderenza perché è fatale che perda aderenza durante la percorrenza della curva il tiro catena viene meno perché la ruota non ha più l'aderenza di prima il forcellone si risolleva molto rapidamente no e mi innesca quello che viene chiamato il pompaggio del posteriore è una delle cause che lo scatena e poi oltretutto è anche è anche pericoloso perché quando si risolleva molto rapidamente è anche facile diciamo incorrere nel famoso high side quello che ti lancia via quello avviene quando l'ammortizzatore si schiaccia perde aderenza si ridistende e poi si richiude di colpo no e allora a quel punto ti lancia invece se noi abbiamo poco tiro catena quindi nel nostro caso con l'ammortizzatore usando l'ammortizzatore più più lungo con meno tiro catena cosa succede che io quando accelero invece avrò la moto che si chiude pochissimo addirittura mi spingerà un po il forcellone verso il basso e quindi quando mi va a perdere l'aderenza io non avrò più la moto che mi si risolleva ma al contrario che mi va a riprendere mi si chiude leggermente mi va e mi va a riprendere l'aderenza quindi con la nostra configurazione con l'ammortizzatore più lungo abbiamo cercato questo e poi ultimo ma non ultimo il propulsore ovviamente la potenza da avere in pista è maggiore rispetto a quella in fuoristrada ma dove si va a mettere quella potenza in basso in alto e soprattutto conviene magari perdere qualcosina in qualche zona per acquisire qualche cavallino di più in alto sì dunque anche qua diciamo che la preparazione del motore per il motard è completamente ha un'esigenza completamente diversa rispetto al fuoristrada nel motard visto che si va verso l'utilizzo in pista anche se abbiamo dei tratti in fuoristrada e per carità bisogna andare a cercare la massima potenza possibile quindi ci va una curva che anche quando arriva al massimo non calino poi entra il limitatore purtroppo e lì e lì ci si ferma però diciamo che fino al limitatore bisogna arrivare con una curva sempre in costante crescita dove si può perdere si può perdere sicuramente sotto perché i regimi bassi non si usa praticamente mai se non in fuoristrada ma tanto con le gomme lisce non hai bisogno di una grande potenza si può anzi si deve direi perdere qualcosina a livello di corpo di aggressività ai medi regimi perché il motore troppo presente ai medi che usi quando sei in uscita di curva ti rende il motore più aggressivo e ti deterioro la gomma perché anche pur diciamo con un pilota bravo bravo centellinare la potenza col comando del gas e il motore aggressivo però comunque mette in crisi in ogni caso la gomma ciao ragazzi video si conclude qua spero con queste cose tecniche di rendervi qualche notte insonne pensando alle modifiche da fare ciao a tutti speriamo che vi sia piaciuto il video lasciate un mi piace e commentate qua sotto se avete qualche curiosità o non avete afferrato benissimo qualche concetto che cercheremo di spiegarvelo al meglio grazie a tutti